ok allora eccoci non voglio il telefono silenzioso che non voglio bombardamenti adesso allora cari buongiorno a tutti da emanuele zanella come sempre sono sempre io quello che parla ma stavolta abbiamo emanuele blandamura da new york ciao a tutti buongiorno buongiorno ditemi se fatemi sapere se sentite emanuele per favore prima di partire che così facciamo le ultime prove tecniche fateci una i dateci non si dateci un no prova a parlare tu però se non parlo io per luigi mi senti se mi senti tu mi sentono tutti se stefano risposto grazie perfetto niente io non riesco a condividerlo nella mia pagina perché ho il computer che è rallentato e va a 2 a 2 vediamo un po se riesco a beccare il link da qua facciamo l'ultima operazione ma e si sente bene ha scritto per 10 gruppo non si vede niente da fare niente da fare niente anch'io è un disastro è perché te l'avevo detto che lo rendiamo tutto va bene l'ultimo ultimo colpo è che è sempre l'ultimo colpo quello più difficile e vediamo un po preparatevi con tutte le domande perché ovviamente se non c'è nulla di preparato ma andiamo via a bomba io non tu non mai non hai condiviso la la diretta tu hai adesso no hai condiviso la pagina la caccia è vero proprio come poti dire ma adesso provo io vediamo un po se è un disastro quando vado mi serve un computer troppo potente vediamo qua dai che partiamo vediamo se ce la facciamo ma non il link in privato per i tagami per favore perché ho tutto imballato qua fammi un favore clicca il link e condividilo e tagami va fammi sto favore perché ho i computer che sono imballati quando non funziona niente oggi così almeno andiamo avanti perché quando apro basta che vai su condividi e mi tagli fa un favore va ovviamente si capisce quello conosco bene niente da prendere niente da fare vabbè vediamo se si riesce lui guarda credo che avete avviato anch'io non so come ho fatto ma penso adesso vado da te perché non mi prende se si è rallentato tutto vediamo un po vado con il tuo profilo vediamo se mi avrai condiviso penso del sì penso di dire che anche io adesso finalmente ce l'abbiamo fatta o dovremmo ripartire con la musichetta adesso bene allora finalmente ce l'abbiamo fatta i primi minuti sono sempre un po infettuosi per i problemi tecnici ma poi si parte sempre alla grande allora ragazzi ciao a tutti per chi non mi conosce ciao a tutti perci seguito alla prossima allora per chi non mi conosce ovviamente per chi sta vedendo Emanuele Blandamura dopo si presenterà lui con il suo curriculum parleremo un po di mentalità vincente di sconfitte di sconfitte di delusioni di vittoria di successo di resistenza di schemi mentali insomma noi siamo qui voi fate tutte le domande che volete e noi risponderemo una una per chi non mi conosce comunque sono Emanuele Zanella che è la prima volta che mi vede magari dico ma chi è sto figacione qua che parla penso di averlo mandato ok ma adesso ho condiviso il suo dai ce l'ho fatta se magari state pensando chi è questo figone qua è franco trentalance no beh sti gaz sono Emanuele Zanella mental coach analogista allora da ormai da 15 anni faccio questo lavoro mi occupo di aiutare specialmente gli atleti nello sport al combattimento a dare il meglio di sé sono un ex pugilagonista forse il naso parla da sé sono un ex avievo di Gino Freire della box piovese e adesso parleremo con Emanuele Blandadura di tutto quello che abbiamo annunciato quindi Emanuele parliamo un attimo di questo periodo tosto è duro per tutti e ci sta mettendo alla dura prova mentalmente emotivamente perché questo sta richiedendo in noi una elasticità mentale e un tradimento continuo diciamo è una delusione perché è come se la vita ci avesse tradito mi spiego anche meglio tanti pugili se si stavano allenando per dei titoli per qualcosa di importante è nato tutto a quel paese domenico valentino stava preparando per prescia e è andato tutto in malora anche la davis bostiero stava preparando per il mondiale compatera bloccato tutto e mi fermo solo a questi qui quindi però dicendo anche questo parliamo un attimo non so perché ma voglio di parlarvi sconfitta perché sconfitta perché adesso siamo tutti noi un po sconfitti perché dobbiamo subire un po' una situazione anomala difficile che ci sta comunque ostacolando nei nostri progetti nei nostri obiettivi sia sia obbligati a intraprendere dei comportamenti per evitare di fare di subire meno dolore possibile è come se avessimo un avversario davanti molto forte e cerchi di difenderti quindi ovviamente per chi entra adesso non abbiamo nulla di preparato queste sono le domande che ci siamo preparati eccole qua ed è tutto a braccio quindi parliamo un attimo prima di sconfitte quindi parliamo partiamo dall'inferno dalla delusione e andiamo in scala verso andare su allora posso generali posso generalizzare perché le delusioni poi sono molteplici io voglio partire la più grande sconfitta che ho avuto nella mia vita ovvero quando ho perso mio nonno nel 2014 dopo la sconfitta con billy joe sander che tutti conosceranno l'attuale campione del mondo dei super medi prima dei medi poi dei super medi poco dopo nessuno sa io sono rientrato il 26 il 27 luglio a roma rientro e praticamente mio nonno cominciava a stare già un bel po che aveva questa tosse e diciamo che da lì si aggrava si aggrava tutto e un mese dopo della sconfitta con belligerio sander che non hanno passami ordita e quindi in quel momento mi sono ritrovato nella sconfitta nella sconfitta ovvero perdo perdo l'europeo sono a terra sono giù ma non al punto di dire a cavolo mollo tutto no sono giù perché ho perso perché sono un atleta comunque se non mi conosco sono un atleta evoluto ok nella vita si perde si vince la mia prima sconfitta in carriera ci può stare ho perso contro un forte il match era lì vabbè ok la testa no ti dà tutte le diciamo le risposte del caso dopodiché l'ammazzata finale è stata quando ho iniziato a camminare da solo arriva la morte di mio nonno e quindi sono proprio nuovamente nel panico cioè a quel punto mi sono detto cavolo non ti sosteneva molto a livello pugilistico non mi sosteneva molto in tutto io quando ancora oggi quando vengo chiamato per un grande impegno diciamo che anche se non c'è più quei minuti di riflessione anche quei giorni se vogliamo qui io sono tu per tu con mia nonna qui io amo io non sono una persona molto tra virgolette socievole ovvero ho molti amici però non amo molto il bordello stare tutti accalcati e parti non sono una persona sono molto introspettivo quindi mi piace più la calma di più la quiete per poi essere e poi essere un ciclone un uragano sul ring ecco quindi in realtà questa sconfitta mi ha veramente spezzato le gambe e quindi penso che questa sia la sconfitta più grande che abbia mai subito nella mia carriera ok però anche qui visto che l'hai tirato fuori in questo caso se dovessi lavorare come una persona durante una sessione di coaching io gli farei la questa domanda perché secondo te deve essere una sconfitta non ci sono cose che vanno al di fuori della nostra portata noi non abbiamo il controllo quindi a livello emotivo tu hai fatto un collegamento tra il nonno e il pugilato ed è forte e forte su legame perché io lo dico sempre dare quattro pugni o dieci pugni è la parte più facile è tutto quello che c'è dietro che è quello che è molto più complesso è come il compito di fare il maestro dire tira 12 tira il gancio alla parte più semplice non è che un mio maestro un gino freo dice tira 12 e magari tu adesso magari con i tuoi ragazzi mi dici tira 48 6 12 12 solo che la capacità del maestro entrare nella testa dell'atleta e riuscire a portarlo su e sostenerlo su sia emotivamente e tecnicamente perché quando il combattimento non sei meglio di me è una guerra psicologica certo quindi parliamo più che altro della sconfitta no un po quello che ci sentiamo adesso che ci dicono una cosa e poi boom andiamo giù aspetti un'altra settimana e poi boom un'altra volta quindi è tutto una sconfitta continua che viene ripetuta ancora adesso che alla fine a livello emotivo è come se fosse una ripresa che va male speri nella seconda ripresa ma ti va male e quindi è un demolitore boom 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 ok in questo caso tu come parola paragoneresti il fatto di ormai con la tua esperienza in quella sconfitta che dopo quando la elabori riesce a elaborarla in modo differente come potresti paragonare per dare qualche consiglio alle persone adesso che ascoltano con la sconfitta che hai avuto che ovviamente stiamo parlando dopo una serie di vittorie adesso che stiamo comunque in una fase di farvi volete sconfitta anche noi allora possiamo a domanda è venuta abbraccio così è quindi allora la sconfitta comunque c'è un passo indietro e parliamo se vogliamo entrare no nell'ambito ancora più un po più dettagliato diciamo che la sconfitta è soggettiva ok ognuno di noi ha il suo modo di sentire la propria sconfitta in questo momento in cui siamo tutti in casa in questo momento in cui tutti noi sentiamo una sconfitta data da 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 un evento che è più grande di noi no che non possiamo controllare ok c'è la voglia di sostanzialmente c'è stata una parte iniziale di ma che sarà vabbè siamo a casa vabbè dai tanto mo dai sì vabbè ho capito poi alla fine quando la cosa si è prolungata ovvero fino a fino a quest'oggi c'è una sorta di ma che davvero c'è ma adesso prima era ma sti cavoli andiamo adesso è aspetta ci penso due volte di uscire poi c'è magari c'è il temerario tra virgolette lo chiamo temerario stupido ignorante non capisce un cazzo e dice no va bene a barzelletta sono giovane e via però avendo anche avuto amici personali che hanno avuto hanno contratto il coronavirus sono stati a casa in ospedale in terapia intensiva beh io comincio a riflettere e dico no aspetta un attimo forse si rischia qualcosa partendo da questo concetto base quindi per per capire una sconfitta e per immagazzinarla è innanzitutto fare un rewind no di com'è avvenuta quindi che cosa è successo ok per quanto concetto le nostre potenzialità quindi bisogna avere una grande senso di di comprensione che non è facile perché noi siamo noi stessi quindi il nostro pensiero è legato al nostro modo di essere mentre c'è un esempio rendoci un Emanuele Zana dall'altra parte ok forse c'è questo confronto in cui può uscire fuori un qualcosa di differente magari della sconfitta in cui io posso uscire fuori della mia veduta e avvicinarmi alla tua che magari è una veduta differente ovvero quando uno dice un bicchiere mezzo vuoto un mezzo pieno dipende da come lo si guarda no è una sorta di questo quindi valutare la sconfitta da più aspetti non è una cosa semplice ok però se si è onesti con se stessi si può anche arrivare a se mental coaching di noi stessi ma è molto difficile molto difficile e specialmente per un professionista ad alto livello come lo sono io come come lo è davis boschiero come lo è domenico valentino insomma comunque ci vuole una squadra no una squadra quando segui atleti di quel calibro credimi non è non è semplice non sai quando lavori con una 500 poi anche ma quando lavori con le ferrari il margine di errore è zero che poi noi tra l'altro tra virgolette siamo anche dei gran cagazzi per mettere il termine perché comunque senti oggi ma noi facciamo sta cosa no perché poi io per esempio sono una persona che propone non so zitto cioè faccio eh perché mi dici da scalare la level se lo faccio però io sono anche uno che magari sanno un sognatore come persona no ecco perché io non parlo mai di sconfitta infatti dico non conto le vittorie ma le sconfitte che ho vinto il mio motto è proprio questo proprio eh da una sconfitta io riparto subito perché poi c'è anche un'analisi veloce con chi ho perso bravo con chi ho perso io ho avuto quattro sconfitte nella mia carriera con quattro in trenta tre match con quattro campioni del mondo ok due anzi tre attuali ovvero grande riota murata che mi scelto solo dei presi super wealth che poi vabbè adesso lo affermo anche lui da un po' comunque tre campioni del mondo il quarto morrison qui a roma lì a roma che non sta migliore lo considero un prospect di tutto rispetto per carità però comunque ho perso sempre con dei elementi di valore questo cosa sta a significare sì che forse ho fatto vedere i miei limiti per carità ma anche che comunque per battermi sulla tastiera ne battono tutti se vogliamo ma est twice è tutt'altro aspetto e non è una sfida ma una realtà mi viene spontanea a farti una domanda quando hai perso ed è brutto dirlo ma usiamo il termine perché potremmo dire quando ha vinto l'altro andiamo facciamo gli antipatici ma usiamo il termine grammaticale hai perso perché alla fine se ne sentono tante però è così mentalmente combattere con i campioni come eri come affrontavi mentalmente questa sfida con quanto è reso secondo te in base le tue capacità sei stato condizionato da dire sono con i campioni in carica mi devo impegnare sono con i campioni in carica è molto forte qual era il tuo schema per quale motivo sei andato sul salito sul ring a combattere qual era il tuo obiettivo e tu hai già capito io dove voglio arrivare però hai già il lavoro che ho fatto che faccio con i miei atleti che io ribalto il mio obiettivo però quando eri in quei grandi match qual era il tuo obiettivo ragazzi tutte le domande fatele pure buongiorno pietro diciamo che allora quando io in quei match dove ho perso e sono salito sono state tutte e quattro molto diversi ovvero posso analizzarli velocemente una una se no fanno mezzanotte però comunque per esempio con billy joe sande io mi sentivo sicuro nel senso non ho mai ma dico mai eh fino a che poi non ho provato prima sconfitta ma fino a quel momento non sentivo niente nel senso io ero io io ero io infatti poi comunque il match è stato fino all'ottavo round è stato equilibrato ma non lo dico io lo dico nei cartellini perché se lo dicessi io vabbè tu hai visto un altro match no lo dicono i giudici lo dicono i giudici nel senso fino all'ottavo round erano un sostanziale pari ovvero un giudice a lui un giudice a me e un giudice pari quindi io fino all'ottavo round ero col campione del mondo testa a testa ok poi come sono salito sono salito senza pensieri sono salito che vengo qua faccio il mio lavoro perché io sono un pugile ok il mio lavoro qual è fare il pugilato la corona europea è uguale a tutte le altre cinture perché questo perché comunque io devo devo onorare quello che ho fatto fino ad oggi perché se io svalutassi il titolo del Mediterraneo contro Manuel Ernesti e valutassi soltanto il titolo europeo convinto contro Matteo Signani non porterai rispetto né all'una né all'altra quindi in realtà io porto rispetto al match grande livello sì Luigi Osander sì Manuel Ernesti sì Signani sì Gordi sì perché perché ci ho fatto ci ho fatto ci ho fatto ci ho combattuto e so cosa vuol dire fare un match ah ma quella è una peppa chi sei tu per dirlo ci hai fatto mai ci sono un paio un momento un paio di denti che c'ho fratici dentro qua boschiero no boschiero uno è la combriccola di Davis che non è un amico di Davis è uno che mi piace gli piace scrive non mi ricordo come si chiama mannaggia alla miseria mi stanno antipatici quelle persone che devono parlare a sproposito di tutti io combatto tu sei sulla tastiera ma che cazzo ne sai parliamo proprio di questo è anche un altro questo è un nemico dell'atleta che praticamente io devo è qui entro in gioco io non il maestro perché qui è il giudizio delle persone le critiche gratuite perché quando vai su parliamo ma questo l'abbiamo parlato anche con domenico valentino quando abbiamo fatto l'intervista con lui prima del match un 23 like quasi nessuno lo cagava tutti lo davano per sconfitto fatto il match ma finalmente una foto mille like 3000 commenti grande campione e qual è stato il mio ruolo è stato quello di resettare la sua mente e creare praticamente una barriera che lui diventasse invincibile mentalmente che diventa impassibile ad ogni pensiero ma purtroppo i social destabilizzano gli atleti perché io non voglio fare nomi ma con tanti atleti io ho dovuto gli obbligati a eliminare facebook il social ho detto tu lo stacchi la settimana perché ti influenza troppo l'ho fatto più volte e il risultato è stato ottimo perché e qui mi collega un altro discorso se ti arrivano 50 commenti bravo sei forte sei tu il campione non passano occhio non passano vuol dire ma non passano dentro vai passare dice secondo me ti fa un culo tac quello passa perché il complimento sei forte la mente la nostra mente noi per natura ci agganciamo principalmente alle cose negative se dice fai 10 complimenti una persona cioè nemmeno si ricorda sempre di tu che match del merda che hai fatto come ti permetti bravo è questo sì ma ma non è permettimi la cosa che mi fa incazzare ok non che mi fa arrabbiare che mi fa incazzare sai qual è che magari no la gente ti scambia perché comunque io appaio in un modo no ovvero educato rispettoso perché lo sono tra l'altro però questo lo scambia perché per essere tra virgolette uno scemo forse non ci siamo capiti tu devi portare rispetto a prescindere da chi hai davanti poi se te meno è un altro paio di maniche perché te meno perché non è come vediamo no io quello della tassiera te meno punto poi dopo parliamo però comunque io voglio dire non per essere maleducato però voglio dire bisogna avere rispetto per tu solo che in italia mano e io questo lo provo allora ti giuro qui in a me sono a new york no sono sceso l'altro giorno a fare la spesa l'ho postato qualche giorno fa cioè scendo c'era c'era la fila no per entrare insomma io mi fermo alla linea e l'uomo mi fa sorry io faccio rimango così e ho detto che cazzo ho fatto no e lui mi fa c'è pure una mascherina mi fa you are blanda mora e faccio sì tutto pure sì no manco yes faccio sì la wonderful fantastico ho fatto la foto cioè per dirti qua in america addirittura mi riconosco in italia in italia ti ripeto stavo a cinque chilometri di distanza da dove abito io mi hanno invitato per un qualcosa ok la campione d'europa per un per una purtroppo per una decorrenza di una persona che era morta e mi hanno invitato mi hanno voluto e mi hanno invitato io sono andato con tutto il rispetto per questa famiglia ho portato anche un pensiero beh ti dico ciao la maggior parte delle persone che erano all'interno della struttura erano tutte persone che io conoscevo tutte ci fosse stato l'applauso vabbè era normale no grazie come sono sceso mi sono seduto sul tavolo ci fosse stato un cane che fosse venuto gli al tavolo per dirmi ciao manuè i complimenti non li voglio ma ciao manuè quello che fotte sto paese purtroppo cioè l'italia è la purtroppo l'invidia c'è un invidia sacrosanta che fa schifo ma io potrei dirti nome e cognome di tante persone che 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 hanno questo dentro non lo faccio lo tengo per me perché sono rispettoso nei confronti di queste persone però chiaramente dentro una persona come me che motiva ok una persona che motiva ma si vede già il fatto che se tu per chi lo vede ciao antonio ma tu stai esprimendo molta passione molto pathos in quello che stai comunicando e si vede comunque quando uno ci mette passione sulle cose le vive le vive con il cuore purtroppo il fattore mentale in questo periodo è soggiogato dai commenti dei social perché se tu fai un match e fai una cagata fini da tanti vieni bombardato e io io seguo tantissimi atleti ho perso il numero da quanti ho perso il numero di quante cinture di campioni italiani europei o mondiali che sono state che ho accompagnato tantissimi atleti tra che i one muai thai kickboxing pugilato ma il pugilato campioni del mondo è un po più difficile seguito valentino con patero insomma c'era sì sì ma però il fattore social se non hai una struttura mentale forte ti massacra ti massacra e io ho visto atleti che ho dovuto confrontarmi con i maestri e magari per chi non mi conosce voglio precisare che non faccio il tecnico non faccio il maestro io collaboro con i team è come che il nutrizionista si occupa della nutrizione io mi occupo della dell'assetto mentale della comunicazione delle emozioni e della respirazione stop però io quando vedo che un atleta non ascolta più e comincia a scannarsi un po con il maestro perché la preparazione lo sai cominci la dieta cominciano le atture maroni comincia lo stress e comincia a diventare sostoso cioè più avanti che si va è un attimo che si fa che si litiga col maestro è il maestro nervoso l'atleta nervoso e quindi mi chiamano a volte i maestri che sono disperati mesi o la mazzo o mi aiuti poi mi chiamano perché lavoro con il team mi chiama l'atleta o o la mazzo o mi aiuti quindi si crea una tensione e alla fine il mio compito è quello di smorzarla e creare la sinergia tra il team quindi io dico guarda a lui trattano così vedi che è nervoso devi carburarlo devi oppure insomma vi do il giusto assetto per metterlo in equilibrio in equilibrio tra maestro e atleta guarda qui abbiamo mario gianotti ciao mario un grande maestro di che guane mua itai abbiamo collaborato tantissimo e con lui uno dei suoi atleti l'ho trattato peggio di un vagabondo nel peggiore dei modi con tutti i schemi adesso combattono gli puoi andare addosso col carro armato no no niente bestemmi antonio niente bestemmi ed è proprio questo il social i commenti i pensieri le stabilizzano l'atleta cioè un atleta deve dimenticarsi perché come ti ho detto può bastare un mario più me lo puoi confermare che può bastare una sola parola per distruggere un atleta ma anche a voi a voi che mi state ascoltando vi è mai successo di ricevere un commento o meglio dieci commenti belli bravo 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 e uno ma non so potevi farvi meglio che questo ancora peggio sai perché perché ti crea un dubbio certo il dubbio ipnotico quindi crea nella mia mente un vulcano dei pensieri che voleva dire che avrebbe e che pensava e quindi io mi collego da me stesso e mi aggancio a quella persona voglio sapere cosa pensava e quindi faccio un match da schifo proprio perché può bastare un solo messaggio per destabilizzano l'atleta ma allora sostanzialmente sostanzialmente comunque mano io sono una persona che cioè essendo allora partiamo da un attimo facciamo un passo indietro quando iniziavo a fare il pugilato però 18 anni diciamo che io mi sono mi sono innamorato della box grazie a lo dico a rocky a sugar il cartone animato a rocky joe perché questo essendo stato sempre un sognatore ok sempre una persona uno step sopra le nuvole ok stavo sempre sulle nuvole sempre ragazzo così con la capoccia mezzo le nuvole pensavo sempre in grande se vogliamo ma sempre differente ecco sempre differente più che vicino a me i genitori che tutte le volte ma che cazzo dice mettiti a studiare o che ne so io no avendo avuto dei nonni fantastici perché io la cosa più bella che ho avuto sono stati i miei nonni e mia zia diciamo che ho avuto la possibilità di sognare non che gli altri non lo facciano perché io non lo metto in discussione però io mi sento mi devo di aver avuto la possibilità di sognare ok anche sbagliato perché li ha fatto anche stronzate mica no però che è successo al certo punto quando quando diciamo sono mi sono avvicinato a questo sport ho incominciato a percepire la bellezza no perché perché a quei tempi c'è il mio quartiere è un quartiere difficile ok io sono cresciuto zona tuffello roma tuffello molto conosciuta ok come zonaccia vecchio stampo mezzonaccia piena non piena delinquenti insomma dove è facile che che per reagire ad un qualsiasi situazione devi reagire qua forza ok bene io non sono stato immune a questo quindi sono passato per le borgate sono solo del tuffello sono passato in mezzo alle scorribande a crescere così però dentro le me sentivo che non ero adatto perché perché quando io facevo a cazzotti certo picchiavo la gente certo no facevo questo tipo di 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 tra virgolette passatempo no poi quando tornavo a casa però con niente ero andato e con niente ero tornato quindi le mie tasche erano sempre vuote non vuote non di soldi vuote proprio di di qualcosa di costruttivo a quel punto un bel giorno mi appassionano rocchi no vedevo questo ragazzo che si era un orozzo no se vogliamo era uno che non gli devi rompere scala era uno che così eccola allo stesso tempo è uno che poi ha trovato la strada si è innamorato di uno sport e con tramite la forza fisica l'ha fatta diventare poi il suo cavallo di battaglia diventando rocchi no diventando il campione io dentro di me mi sono immaginato la stessa cosa non so dove potevo arrivare però ho detto perché non fare la stessa cosa ovviamente è vero voglio dare adito a quello che ho dentro la mia rabbia voglio uscire fuori ok lo facciamo con delle regole perché questo è ciò che aspetta la mia nobiltà io mi sentivo comunque una persona degna di rispetto no mi sentivo di essere cosciente mi sentivo di essere una persona che non era un bullo di periferia ma forse potevo fare qualcosa in più della mia vita ed ecco lì che c'è stato questo connubio tra me e il pugilato ma talmente forte che sia dal primo sin dal primo giorno il pugilato ha cominciato a insegnarmi le la più belle l'etica l'etica ovvero mio primo maestro si chiama guido fiammonte all'epoca aveva 83 anni la palestra si chiamava la nuova villata davanti appunto villata è un grande parco di Roma e io vado lì con affare bullo con la sigaretta alla rocchi no con la sigaretta io sono bullo io meno devo dare questa impressione no il maestro 83 anni mi ricordo mi apre era uno scantinato la palestra mi apre e mi dice mi dica l'energia del lei e io dico che è qua la palestra di pugilato perché voglio far pugilato mentre fumavo perché voglio far pugilato ti premetto che avevo i calzini di spugna sulla tuta il pacchetto di sigaretta rotolato dentro la manica e il cappelletto all'india con l'orecchio e fumavo il maestro mi guarda dalla testa ai piedi con gli occhiali un po un po un gobbino con gli occhiali e mi fa le iscrizioni sono chiuse torno a settembre boh mi chiude la porta davanti faccio rimango così interdetto cazzo stiamo aprile al settembre manca un capito il tutto cazzo stiamo aprile quella è la prima lezione comparato del pugilato ovvero torno a casa parlo mi confido con un amico di famiglia che era grande ovvero giovanni capranica il padre del figlio capranica direttore d'orchestra di sanremo erano molto amici noi e lui mi diceva 70 anni o 18 anni fa no no gli racconto l'accaduto e lui mi fa ma scusa ma tu ti sei presentato così perché era pomeriggio l'ho incontrato mi faccio sì e sto vecchietto del cavolo così no ma ha risposto male a me e lui mi fa a parte che fermonte è un nome d'arte che comunque enzo fermonte è stato ampione foglia franco insomma tante storie tu come ti permetti di giudicare una persona anziana e quello ha detto torno a settembre un motivo e io te lo dico qual è il motivo il motivo che nobile è arte tu non c'è niente di nobile insomma ci sono ritornavo una settimana dopo dopo aver fatto un bel avaggio di coscienza sono tornato vestito normale senza orecchietti senza cappelletta e senza sigaretta e soprattutto senza calzini sopra sopra la dura busso il maestro faccio maestro con questo affare sono andato con questo affare maestro io veramente vorrei fare il tuo gioco da lei la prego adesso le iscrizioni sono aperte adesso le iscrizioni sono aperte questa sarà la mia prima lezione assoluta di box ecco che cos'è il pugilato no devi da menare devi uccidere gli stacca giù la giocolare anche perché io persone allenatori del genere comunque il proprio atleta con me ha perso però ognuno quindi ognuno motiva poi l'atleta come meglio crede comunque io credo in questo nino benvenuti è il nostro porta bandiera di eleganza e di nobiltà non ho mai sentito tra virgolette uno uccidere persone perché io non ho mai sentito quindi pugilato stacca testa anche perché se noi valutiamo bene questa cosa se uno va su per distruggere l'avversario è già perso perché combatti con la rabbia non sei lucido non sei determinato c'è una grande differenza tra rabbia o meglio ci sono sono chiamate le tre energie archetipiche no la calma la giocosità e la ferocia solo che ogni energia ha un lato scuro un lato buono il lato scuro se io prendo la ferocia il lato scuro e la rabbia e spacco c'è invece uno determinato è come questo è determinato nel momento che aperti la brocca io mi ricordo del campionato preso l'avversario ha crollato piegato le ginocchia vado all'angolo insomma stavo facendo un grande match ho detto adesso lo butto giù partivo praticamente dall'angolo perso la testa perché non ho perso la brocca e li ha fatto un casino l'ho vinto ma ha fatto un casino se invece rimanevo lucio poco avrei vinto ed è proprio questo ho riscontrato molto il fattore rabbia ora gli è desperto del spacco ma non è così come dici tu ci sono delle regole maggiore determinazione determinazione in mente taiso taiso era un animale ma lui secondo ma ma aveva un maestro che vera e conosceva molto bene la mente umana infatti io ho studiato un po c'è in base a quello che diceva taiso no e ho fatto un articolo su questo perché aver su lui si regolava molto bene anzi sicuramente aveva studiato l'ipnosi perché sapeva molto bene come come stipulare la parte emotiva vibrato per portare la tensione verso di lui come faccio io con i miei atleti no io cosa faccio lì prendo l'emozione la creo e la porto verso di me alcuni mi dico cazzo ti verrai ma ti spaccherai la testa però cosa fanno si dimenticano dell'avversario e quindi quando vanno su non hanno rabbia ma sono determinati vai parlo io che vedo che stai parlando no 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 vai 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 dimmi no dimmi la tua riguardo no no sono sono d'accordo con te sono d'accordo con te è vero verissimo ho anche letto il libro di taiso in cui c'è questa questa parte in cui era legata all'ipnosi e qui spiegava di casd'amato in certe circostanze veramente usava però comunque c'era questo aspetto che condividevo con te fate lui a livello era un chirurgo della mente perché non sapeva sapeva calibrare veramente tutto in modo eccellente alla freud e in america come come hai visto il fatto mentale comunque perché qui quando io mi sono esposto ho preso del di tutto non ti dico cosa si è mosso ora siamo 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 reali no cioè nel senso chi parla ok parla sono infatti nel senso allora io sposo mio maestro si chiama eugenio maestro benemerico e lui è un maestro che non non va tanto per la quale lui per me la mente questo punto in base però è una persona ma la mentalità aperta ok nel senso ciò che a me fa star bene se lui in un certo range lo reputa che si può fare al di là da come la pensa perfetto si può può accettare ok il lavoro magari di di team no lo accetta cento per cento però comunque alcune varianti all'interno del mental coach l'etico il fisioterapista sono vari aspetti che poi un atleta deve avere nel team e io col maestro spesso facciamo questo cioè lui mi ha fatto questa questo esempio mi ricordo del calcio no ma secondo te mi ha fatto la scuola di calcio di orvi con la lì che hanno tutti i potenziali lavoratori che hanno fatto la partecipazione ai mondiali che poi sono usciti subito però comunque erano chi lavorava in banca nell'edilizia hanno fatto sta squadra e sono arrivati a fare la fase iniziale dei campionati del mondo sono usciti subito comunque perché comunque il loro lavoro non è sostanzialmente non è giocare a pallone ma adesso non vedi ma quello è un bravo mister perché se tu vai a allenare il Brasile il Brasile cammina da solo tu diventi il campione se capisci tutti e tutti perché tu vai a allenare il Brasile loro vincono ugualmente o che tu ci capisci o che non ci capisci però se tu prendi una squadretta piccola e la vai ad allenare ok e la fai diventare quello l'ha fatto è lì è il bello è lì è il bello bravo quello bravo maestro per esempio fa sempre l'esempio di Ginofeo ma non perché perché Ginofeo ha fatto campioni del mondo è vero Sanaria gli ha costruiti da zero l'ha costruito da zero Boschiero stesso insomma maestro ha molto rispetto per Ginofeo no mi parla di lui sono tanti altri maestri cui mi parlo ok però comunque è vero un paese così ti ricordi tre campioni del mondo quattro due campioni di Europa campioni del mondo vuol di che qualcosa di bugilato ne capisci perfetto vengo qua in America vengo qua in America mi alleno nella palestra come la glison ok che in realtà è una palestra per carità però chiaramente ad oggi è una una palestra molto una sorta di di museo in cui tu devi passare no per forza in New York che cosa riscontrato una mentalità rispetto alla nostra molto arretrata rispetto a come vediamo noi pugilato come lo vediamo loro per loro tutto è business dai guanti alle fascette io mi ricordo che entravo il maestro Don Salvi siamo anche amici Don mi fa mi accompagna gli spogliatori diciamo a chiacchierare parliamo parlo abbastanza bene non ottimo ma abbastanza bene l'inglese con l'accento romano parlo comunque c'entro romano infatti lui sei un romano di New York e quindi cerchieriamo del più e del meno quello e quell'altro a un certo punto diciamo dai prendi le fascette mi fa le mani me le fa lui scaldare con due di poi due di vuoto due di corda anzi due di corda due di vuoto e poi ti chiamo sul ring e lavoriamo insomma un riscaldamento che non va a curare no quello che è il warm up iniziale dalla fase iniziale oppure lenta progressiva che può passare all'attivazione del corpo muscoli stabilizzatori alla mobilità articolare no questo questo concetto no scientifico dell'allenamento non ce l'hanno almeno qui poi magari vai ad allenare Mayweather eccetera eccetera non dico perché non mi sono andato con loro dico anche di sì ok questo aspetto c'è perché ognuno può fare il suo ma all'interno della stessa palestra questo concetto non c'è poi il maestro il maestro che dice come ci è arrivato a 40 anni a fare lo sport struttura fisica no è una serie di di aggiustamenti che ho portato in tutte le memorazioni ovvero ho introdotto la mobilità ho introdotto la postulare ho introdotto yoga ho introdotto vari aspetti no che non consideravo io ho sempre avuto lo psicologo il motivatore quantomeno una persona che mi supportasse emotivamente psicologicamente psicologo non mi ha mai detto la ce la farai ma sempre detto ma sempre lasciato a me in mano le scelte facendo vedere un ampio raggio una ampia gamma di scelte che potevo avere ok però comunque l'ho sempre detto che tu devi scegliere questo non è il mio compito infatti anche su questo quando facevo ho fatto diversi corsi con gli istruttori quando facevo i mental training che quindi prendevo atleti e maestri di come per quanto si guarda riguarda la motivazione uno degli errori è dai che puoi farcela non è così ne parlavo anche con damiani no dicevo se l'atleta che vi dici dai che ce la puoi fare lo butti giù lo butti giù io non voglio fare nomi ma sono tutte gente conosciuta c'è una donna che se lei mi dici dai che sei tu la più forte basta boh poti fa più niente dei punti giù l'energia invece io quando li porto ai combattere non le dico mai ce la puoi fare mai li porto in una condizione di dire io vado su per combattere per dare il meglio di me fino alla fine punto so che quello è forte non mento mai metto sempre la verità quel certo io voglio io mi metto dalla parte nata così non sapere la verità come è forte si è tanto forte sì perché se se mi illudono ce la puoi fare di prendo due castagne mi destabilizza se invece io mi sono consapevole che quello è forte ma veramente fa male emic e mi crea una struttura alle spalle struttura mentale vuol dire come il corpo lo fai mattone per mattone non è che in un giorno e crea una struttura come il fisico però la struttura la crea giorno per giorno ma se hai una struttura che lui picchia duro con una capacità atletica e tecnica che sei pronto a contrastare quella forza e ruota allora lo tieni allora lo tieni perché sei pronto fisicamente e mentalmente ma se tu sei pronto fisicamente e tecnicamente e in quella c'è qualcosa che non va tu non puoi permetterti di andare giù se vedi che l'avversario più forte no assolutamente no cerchi cerchi di trovare delle strategie appunto c'è il lavoro no c'è il lavoro in palestra allora lavoro mentale ripeto è anche soggettivo ok io io ho paragonato spesso e volentieri la mia vita ok la mia vita parlo in qualità di se auto normale 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 civile al ring è detto c'è la via del ring è molto più semplice di quello che ho passato dire dice mazza ma che è passato nulla che magari può essere parlato anche un bambino che non trova lecca lecca in quel momento per lui è la tragedia più grande non averla no esatto è soggettivo essendo che è soggettivo io però comunque sono consapevole di quello che è passato sono consapevole di quello a cui ho dovuto cioè di come mi sono dovuto rapportare con me stesso e con la vita sono io cosa ho fatto per non cadere io cosa ho fatto quando sono caduto io ho preso il colpo quando ho sbagliato strada quindi una serie di lezioni che la vita mi ha piacevolmente dato ma non lo dico per creare diciamo è matto oppure per scherzarci sopra no e oggi ringrazio tutto quello che mi è accaduto perché se no altrimenti oggi non sarei stato manovale brandamora non sarei diventato tre volte campione d'europa non avrei fatto un titolo mondiale eccetera 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 ma semplicemente ok sarei stata una persona normale allora io non voglio ritenermi una persona normale ma neanche una persona sopra agli altri voglio dire che tutti noi abbiamo una missione poi c'è chi la capisce minima c'è qualcuno che la capisce prima c'è qualcuno che non la capisce per niente e c'è qualcuno che magari ha dentro di sé un qualcosa che lo porta a non pensare a non essere introspettivo vivere la vita superficialmente e poi dice la saggezza dei capelli bianchi arriva a cazzo se avessi fatto no i capelli bianchi ce li possono avere tutti l'importante che comprendiamo cosa vogliamo fare nella nostra vita questo è l'aspetto di un portato parliamo un attimo che ormai siamo quasi alla fine parliamo come la salita abbiamo parlato un po delle sconfitte e difficoltà parliamo con del successo vai per voi fate pure tutte le domande che volete a emanuele blandamura allora il successo ti porta su si parliamo di successi dai di allora parliamo allora parliamo delle vittorie partiamo di aspetto sportivo parliamo delle vittorie il successo di bello è stato ricordo uno dei primi i miei primi titoli ovvero contro manu Ernesti di Diamond che io ero la vittima sacrificare ok comunque considerato da tutti anche dal manager avversario davide buccioni per l'epoca io avrei dovuto perdere davide perché siamo amici lo dico con amicizia per tutti avrei perso quel match ma in realtà non è andata così sono stato sottovalutato dal maestro nell'epoca luciano sordini perché mi volesse bene per carità e se stima per me però non mi deteneva l'altezza di battere mano non lo stesso ma comunque fino a quel tempo era sulla crescita dell'onda nazionale nazionale migliore titoli 20 campionati d'italia insomma era un nome che comunque risuonava nell'ambito del pugilato passava posizionista 10 vittorie tutte consecutive anche 7 per le quali per capo quindi il 70 per cento doveva essere proprio quello da niente però avrebbe lanciato il successo di mano ma così non è stato perché io nei miei 31 anni mio primo titolo e anche tardi sono arrivato ma dentro avevo tutta la voglia di dimostrare chi ero anche perché qui entra in gioco il fattore di prima se metti consapevolezza a uno che quello ti fa un culo così ed è pronto a tutto devi buttarlo giù con il carro armato punto e così è andata mi sono allenato con il maestro genio penso del fatto la più bella preparazione che abbia mai fatto in tutta la mia vita ricordo eh infatti tante volte io ripeto ma io voglio rifare la stessa preparazione no perché pazzo come so che dico così ovvero abbiamo lo sparring era quando andava bene quando andava bene no quando era peggio quando andava bene vuol dire che io avevo quattro persone 12 round tre più quattro 12 tre round ogni atleta nuovo che saliva preso quattro atleti di livello diverso c'era il picchiatore c'era il tecnico c'era il direttante per dammi ebrio e c'era magari il l'amatoriale così chiamato che veniva a farmi gli ultimi round che ok però magari c'era giovanni de carolis c'era leon albundu magari magari c'era un daniele petrucci ecco tra questi tutti tutti i primaroli tra questi che giravano no tra le tre di valore c'era poi magari l'amatoriare c'era il direttante di turno che magari però era forte voleva dimostrare e c'era il semino il professionista appena passato e comunque i suoi incontri c'era bene io mi ricordo una crisi di pianto che ho avuto alla fine di tutti i guanti più si avvicinava il match più mamma mia non dormire c'era l'era del dio che sarebbe no e mi ricordo una situa di quanti c'era come si chiamava quello e manuele barletta fici quanti quando medio massimo qualche tempo fa tempo tempo fa perché ha smesso comunque non è barletta e rinaldi rinaldi che era non mi ricordo forse giuri luparelli ma non mi ricordo vabbè insomma una crisi di quanti è finito dove pure bene no mi sono messo a piangere faccio io l'ho fatto un urlo e mi sono messo c'era il maestro mi ricordo è rimasto all'invito ero demoniato tutti quanti che ho fatto non è per rispetto di tutti è una furia non c'eravamo per nessuno non c'eravamo per nessuno per nessuno è fatto lo switch madonna lo switch impazzo il maestro mi fa ora devi staccarlo però se no te caccio via e mi ricordo una situa di quanti insomma mostruosa l'ho fatto per carità rispetto di tutti gli atleti e però quello era il mio momento era il mio titolo quindi non sto ponendo chi è più forte e chi è meno forte la situa di quanti è un allenamento come un centromerista fa l'allenamento ha finito oggi non meglio però ero infatti al match parto con la mia calma che ho sempre due tre round sembro nove quasi ma questo poi però quando un calzo non mi fermi più infatti così andare al nonno round ma l'ernesti lo metto con ginocchio a terra 12 ma non è lo ricordi 12 insomma con l'arbitro baronecchio lo conta e poi insomma ho condotto quel match alla grande e infatti sono diventato non solo da più del meteo ma il re vendi chiamato così il re di roma perché era un derby il re di roma e da lì fa temanore brannamora tutte le vittorie poi hanno una nota comune ovvero non mollare mai non arrendersi mai la sfida più bella che ho in tutti i match ho fatto era proprio questa ovvero è stato quello di non arrendermi mai al di là del risultato ho sempre voluto dare il massimo perché è la cosa che amo di più al mondo è fare da bocca quindi volevo dare sempre il mio massimo non considero il mio avversario destro sinistro infatti se tu vedi il mio curriculum no si ci sono i match no quelli la di transizione con i transitori chiamiamoli così no tanto chi è esperto capisce quello che dice ma è vero anche con anche i nomi importanti all'interno anche a italiano ecco anche l'italiano un mario ernesti un luca tassi un francesco di fiore un armand tatari un marco snader parlando di livello internazionale l'ho vinto per l'unione europea un billy joe sander un signani un godi un murata ovvero nel cane la pentola non ho mai rifiutato un match mai mai io ho sempre combattuto con tutti non mi è mai stato detto a questo ci vuoi fare però ci faccio non ho mai detto no contrario qualche no io in passato l'ho ricevuto non faccio nomi perché non è carino però l'ho ricevuto ok quindi questo comunque quando io sentivo il maestro a questo potenzio fa era la qualifica per un campionato d'italia ok veni fatto sfidante ufficiale non dico né chi era il campione né niente il campione disse di no e lasciò vagante il tiro quello dopo di strano e non insomma tre atleti dissero di no io lascia i vaganti la qualifica di sfidante e nominarono altri due cospidanti ok non dico niente nel primo né niente perché sennò poi uno collega e fa chiaramente non è il pugile magari magari è il manager che non ha voluto ha voluto evitare l'incontro non il pugile non evita mai magari il manager sì ok la carriera di un pugile va costruita esatto con così andata così andata io questa cosa però a me mi diede la forza di dire cacchio a me stesso da solo senza dirlo all'altro cazzo qualcosa valido e questa cosa nessuno più me l'ha più toccato infatti oggi io dico sempre le chiacchiere se ne porta via il vento sono i fatti che rimangono e chi ha da parlare dico ma io su libri di storia ci sto hai visto slash command option sopra c'è option c'è punto ecco punto allora che consiglio da daresti a per quanto riguarda questo periodo come carattere come resistere sapendo tutta la situazione non sappiamo quando finirà non sappiamo cosa troveremo non sappiamo nulla siamo nell'ignoto più totale proprio in questo momento l'unica certezza che noi abbiamo siamo noi stessi perché se abbiamo una mente elastica forte resistente come dei camaleonti perché i match quando inizieranno a gennaio non si sa delle proposte che stiamo girando che stanno circolando di farle a porte chiuse chiaramente in qualche modo bisognerà ripartire bisognerà riorganizzarci tutti uniti e ripartire come sempre abbiamo fatto il mondo oggi è fermo non un paese il mondo il mondo oggi è fermo lì come lì in america tutto ma chiaramente qua è sempre stata fondamentalmente una fase 2 una fase 2 una fase 2 e quindi non sai che qui non abbiamo capito la differenza tra la fase 1 e fase 2 tanto però non voglio entrare nell'attore neanche io neanche io perché non credo che poi ci si perda nella nella burocrazia diciamo che fondamentalmente io ho sempre rispettato coscienziosamente la salvaguardia del del prossimo e di me stesso quindi in realtà la mia fase è sempre stata quella né uno né due né cinque né cento è sempre stata quella di rispetto a te stesso come vorresti che gli altri fossero rispettati no quindi io ho rispettato la distanza di sicurezza ho rispettato eh quello che può essere il protocollo di stare alla distanza giusta e andare magari a fare la spesa è vero anche mi sono fatto la corsetta che qui è la permessa parla no e quindi ho rispettato anche quello che poteva essere fatto e mi sono andato a correre però chiaramente il mondo è cambiato il mondo è cambiato a penso che in più anche chi ha meno coscienza ha imparato ad usarla ed usarmi molta nella vita sei nel nel pugilato io ho fatto fatto questo paragone qualche tempo fa che nel pugilato mi sono andato sempre con molti handicap magari no ovvero che magari potrebbe essere cazzo mi sono fatto male alla caviglia perché ho staccato una settimana che faccio sulla sedia ma allenavo oppure lo stavo sotto la corda insomma mi inventavo esercizi per cui potessimo stare fermi l'ultima volta che magari uno pensa di dire ah cavolo sono scoraggiato o cavolo no abbiamo sempre la possibilità di organizzarci di riorganizzarci e di fare la cosa migliore possibile che possiamo chiaramente l'aspetto economico alzo le mani non posso entrare nel merito di parlare di un aspetto economico che è stato devastante per tutti non solo per me nel piccolo e nel grande le grandi industrie l'altro giorno mia ragazza mi leggeva alcune industrie che sono in bilico nomi importanti che non ripeto anche perché non mi pare giusto ma che sono rimasto colpito ma negativamente se c'è una stretta forte con che tu dico mettendo i loro tutti i soldi che c'hanno però quando senti no che dietro comunque c'è un uomo che ha realizzato un grande successo che arriva a guadagnare tantissimi soldi è vero ok io non posso curare il male perché io mi io mi metto nei panni di quella persona dalla gloria alle stalle no in cui tu sei onnipotente poi cadi giù non può essere soltanto 15 soldi da virgolette stronzo ma ci troviamo a una storia solo convinzioni errate è esatto se uno ha soldi vuol dire che è anche se meritati perfetto diciamo che se ne merita quindi ho sentito quella stretta nello stomaco il cazzo pensa come sta questa persona ma non solo economicamente pensa che ha mille duemila diecimila dipendenti diecimila famiglie diecimila moltiplicato per altre tante persone allora oggi l'aspetto no economico sociale è stato devastante di conseguenza porto subito porto subito la mia testa subito un esempio della guerra no il mio nonno quando mi raccontava la guerra ok in vari aspetti ci sono sempre state queste cose no ci sono sempre riprodotti sono sempre riproposte nel tempo allora io oggi mi trovo in un momento difficile come l'è stato cent'anni fa mille anni fa eccetera ok quello che posso fare è dare il mio supporto il mio supporto il mio supporto come per esempio io collaboro ok io lavoro per come personal trainer e lavoro in un gruppo big fit si chiama till and big fit abbiamo siamo stati uno dei primi nei social a lanciare l'allenamento online in casa ok a titolo gratuito mentre adesso c'è una piccola spesa che comunque serve anche per per far ripartire l'economia no no centomila euro no ok anche per far ripartire l'economia che è giusto perché oggi per lavorare ne darci una mano un pochetti quindi comunque ognuno di noi deve essere artefice della propria vita ognuno di noi deve dare il proprio massimo ognuno di noi deve capire qual è la propria missione ok e deve dare il proprio meglio piangersi addosso serve a poco ma adesso è giusto adesso serve una forte consapevolezza una forte presa di posizione di coscienza questo non vuol dire l'arroganza abbiamo giusto l'arroganza come l'umiltà vanno invece insieme nella pietanza perché se sei umido e ci vuole la giusta umiltà ma anche la giusta arroganza arroganza non contro vedi la vecchia l'idea una testata gli spacchi la testa l'arroganza contro la difficoltà c'è un'arroganza interiore che ti permette di affrontare di ma no adesso ci sono è quell'arroganza di quando sali sul ring combatti contro il tuo avversario adesso chi è il nostro avversario esatto situazione è un nemico che non si conosce quindi il video ci vuole l'umiltà si vediamo no questo però ci vuole l'arroganza giusta per combattere perché se no ci succombe esatto infatti questo è chiudendo questo aspetto è proprio questo quello che intendevo dire ovvero adesso è il momento visto che siamo tutti sul punto di partenza tutti insieme siamo tutti là chi più e chi meno appunto dalle grandi aziende al piccolo lavoratore a chi non fa niente adesso è il momento di ripartire di tirar fuori idee di tirar fuori possibilità per tutti per noi tutti di essere più uniti anche se anche se siamo socialmente distanziati ok però più uniti a livello di testa ovvero diversi corpo stessa mente no quindi trovare quell'appiglio quella forza giusta per poter ripartire tutti insieme e si può fare umilmente facendo un passo indietro nell'umiltà considerando la vita non come un potere economico ma considerando la vita per quello che è realmente e che cos'è realmente la vita è un prodotto è un mezzo per cui tu puoi fare il più bel viaggio che possa essere mai stato inventato in vita nostra più della scienza e più di qualsiasi altra cosa quindi adesso ognuno può veramente sperimentare il senso profondo e reale della vita che ognuno di noi è soggettivo deve trovare per forza esatto adesso o lo trovi o lo trovi siamo arrivati alla fine quindi io ringrazio veramente Emanuele Blanamura di questa bella chiacchierata tra di noi grazie a condiviso delle sue emozioni della sua storia dei suoi successi se avete qualche piccola domanda fatela pure e se no chiudiamo questa breve diretta quando vedrete questo canale questo video da youtube iscrivetevi al mio canale per essere aggiornati e come vedete nel link c'è c'è una frasetta cliccate lì che c'è una sorpresa molto interessante per chi ha voglia di imparare le regole della mentalità vincente bene siamo arrivati alla fine non ti metto la canzone finale perché se no ma te l'ho già mandata la canzone oggi sono andata a correre me la sono sparata con Shazam nel telefono della mia ragazza l'ho shazanata e me la sono presa lo sappia la musica è considerata come un doping e quindi puoi ben capire quanto è importante sono le frequenze bene signori ciao a tutti da Emanuele Zanella grazie a Emanuele Blanamura e niente e buona continuazione a tutti ciao Manu ciao 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 grande ciao a tutti ciao 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 Grazie.